Questo è una decorazione Questa è la chitarra ripresa dal modello stradipari Misure, spessori e tutto Così c'è solamente da finirla, levigarla, mettere il filetto giro giro, anche dietro E montarla Sono cinque, sarebbero due, quattro, no, sono sei Ma è quelle di Budello? No, sarebbero cinque doppie Capito? Io l'ho fatta sei, non doppie, semplici No, è una molla È una molla Ho detto così, c'è un piano che è un avesse rosso della Val di Fiemma maschio Guarda, c'ha tutte le maschiature È una cosa E l'acero è acero campestre Acero campestre senza amarezzatura Questo è toscano Acero campestre toscano Questo è da Mugello No, è una... C'è questo lì quando l'hai verniciato, ha messo le corde È un tamburo, ma potente proprio anche E l'accordatura delle corde di Budello come l'è? Cioè come questa? No, no, allora qui si fa una cosa vergognosa Nel senso che siccome se tu la vuoi finire te la devi anche suonare Capito? Eh, tu la fai E... Ma c'è da metti i tasti poi Però, geniale È una chitarra È una chitarra Ma non mi sonora Ma non mi sonora Ma non mi sonora Ma cosa... Ma c'è da metti... Cioè c'è da fare proprio la tastiera con i tuoi tastature Non lo sai fare? No Te lo insegno io È una normale regola matematica Quanto sapevo io matematica? Meno due assa Meno due forse erano del tanto da vivere e tu ti impegnavi Comunque a parte tutto E questa sono veramente... Cioè pensaci un attimo se tu la vuoi finire Io non la finì ho destra così perché Le feci in un momento che avevo preso dalla fuga di fare delle cose Ma poi dopo... No, ma no, ho fatto degli ordini Non ho più... Non ho più... No, questo è... È una molla veramente Lo senti proprio mentre... Quando chiusi la cassa Quando lo smollai Mentre lo smollavo Bang Cioè anche il respiro la fa entrare in vibrazione Eeeh... No, no, no Non c'è bisogno di chiamarla Ancora non risponde Fino a chiarire Ma qui non c'è un vernice di nulla No, è il legno È la pese Ma che sacro Sì, un po' io Però insomma Questo verrebbe un bello strumento Io se tu la volessi finire Ganza Eh, ci si può ragionare Che... Però le corde devono essere di budello Eh, quello è il casino Cioè... Perché? Perché... Ma l'amplifichi, eh? Ho capito Ma sempre budello ti rimane Tu suditi Si scioglie ogni cosa No No Vada 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 Ti rimetti di là Va a riportarlo Vai Si rimetti di là Si scioglie Ma comunque è forte Ma comunque è forte No, questo è un'altra Cioè... Mentre parli, guarda A parte fatte una... Ti vibra ogni cosa Si, è proprio una... Ti vibra ogni cosa E guarda L'ho fatto l'innesso Perché l'ho fatto malezzato Capito? Siccome... E la palla di torre Certi cose sono modificate Sono fatte secondo me È il mio gusto Però Però guarda veramente Se te tu te la senti Perché poi dopo La tassatura arriva fin qui, eh? Certo Perché... Sì Sai Se tu te la senti Se no Tu fai... Tu fai uno strumento in più Niente Va bene Questo mi sembra bellino Va bene Mi sembra una bella idea Si si